Non esiste una questione morale, esiste una questione penale perché ledere la libertà di una persona per ragioni politiche secondo noi è devastante rispetto ai diritti di libertà esistenti nel nostro paese. Per risolversi tutto ciò con le dimissioni dei parlamentari. Ma non si risolve anche in carcere, voi lo so che volete risolvere tutti mandando la gente in carcere, però siamo agli antipodi. In un paese normale non si manda la gente in carcere, non si manda gli parlamentari in carcere in un paese normale.